Padoan e Gentiloni, nel pomeriggio i governatori di Banca Italia e di Francia hanno auspicato un unico ministro delle finanze europeo. Buonasera, sì, terza giornata di Festival dell'economia, giornata importante, appunto due ministri, Padoan e Gentiloni. Gentiloni sta ancora parlando, vedete alle mie spalle, chi lo segue sul grande schermo, poi due governatori, insomma tante cose, ma cominciamo a raccontare, non abbiamo ospiti, appunto tante cose da raccontare, l'arrivo di Padoan, Padoan ha incontrato Rossi, pare che abbiano parlato, hanno parlato di un allentamento del patto di stabilità per favorire gli investimenti in Trentino, poi l'incontro all'auditorio in Santa Chiara, qualche contestazione da parte degli investitori, degli spalmiatori di Banca Popolare, ma vediamo il servizio di Cinzia Toller. Se mi posso permettere una battuta, mi piacerebbe che si smettesse di parlare di flessibilità e si iniziasse a parlare di produttività, così il ministro Padoan che punta sul capitale umano. Migliorare il capitale umano in modo tale che si traduca in augure produttività richiede molto tempo, perché bisogna partire dal sistema educativo, aggiustare il modo in cui si forma il capitale umano e capire qual è il capitale umano che serve alle imprese. Tutto questo richiede l'istruzione, la riforma della scuola, ma anche un mercato del lavoro dove conta più gli skills, la qualità e anche strumenti finanziari per trasmetterlo alle imprese. Il governo dal canto suo taglierà l'IRES, incertezza sull'IRPF, la crescita non è debole e sta accelerando. Fra la miriade di temi, le banche, con le riforme stiamo costruendo un sistema bancario nuovo e grazie alla crescita e ripresa degli investimenti, nell'arco di due anni il sistema tornerà stabile. Una parentesi si è aperta fra il pubblico con la rabbia dei risparmiatori della Popolare di Vicenza presenti in platea che hanno chiesto al ministro come rientrare in possesso non solo dei soldi ma anche della dignità di risparmiatori. La questione va analizzata ma non è compito del governo, ha replicato Padoan che a proposito delle banche aveva sostenuto che in molte vicende dovrebbe intervenire la magistratura, non la vigilanza. E di Europa e i migranti, ha parlato Gentiloni, sta parlando Gentiloni, per noi c'era Silvia Santarelli. L'immigrazione è un problema che si può gestire, anzi può essere una risorsa. È il messaggio che il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha voluto portare qui a Trento, terra di confine. Se la si affronta come tale, se non si lascia il peso solo su singoli paesi e noi come Italia abbiamo sofferto di questo, io credo che questa questione possa essere assolutamente gestita e addirittura diventare, come indubbiamente è in società che invecchiano come le nostre, una grande potenzialità. Gentiloni è venuto al festival a parlare dei luoghi della crisi, ma l'attenzione è tutta rivolta per la questione Brennero. Ricorda che poche ore fa Angela Merkel ha detto che la chiusura del Brennero sarebbe la fine dell'Europa. Rassicura tutti, come ha rassicurato in precedenza il presidente della provincia Rossi. La situazione è sotto controllo, il dialogo con l'Austria è buono e non c'è motivo di allarme per l'immediato. Con Rossi il ministro degli esteri ha anche riconosciuto il ruolo dell'eureggio nel mantenere aperta la comunicazione con i vicini austriaci. Ricordiamo anche quello che ci sarà dopo alle 21 all'auditorio Santa Chiara, Lella Costa parlerà di profughi. Oggi peraltro si è parlato invece anche di turismo di montagna, insomma tanti argomenti. E appunto di Europa hanno parlato a lungo al sociale, i governatori delle banche centrali di Francia e Italia dovevano rispondere a un quesito sollecitati da Ferruccio De Bortoli, cioè serve o meno un ministro delle finanze europeo. Sentiamo com'è andata. Un ministro delle finanze europeo serve e serve sia legittimato democraticamente. Dal teatro sociale i governatori delle banche centrali d'Italia, di Francia, Visco e De Galeux mandano risposte precise. La zona euro piace agli europei, più di quanto piace all'Europa unita, pensate, ma serve continuare sulla strada di una unità vera che funzioni. Il racconto della crisi greca, dicono, appare emblematico. È stata dura proprio perché a trattare c'era una troica che non aveva una qualche legittimità democratica e poi la commissione e, insomma, infiniti passaggi che hanno reso tutto più complesso e difficile. Serve una visione di lungo respiro, dice il governatore Visco. Deve essere dotato di un bilancio comune, deve essere dotato di un strumento sovranazionale qual è la possibilità di emettere debito comune o di avere anche come responsabilità quella di gestire il debito comune. Serve, aggiunge, un primo passo. Un importante passo in avanti sarebbe quello di prendere decisioni comuni adesso su materie fondamentali quali, per esempio, la sicurezza e l'emigrazione. Si è parlato anche di fisco con il Trentino Alto Adige, che è la regione con la più bassa pericolosità fiscale d'Italia. A dirlo la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Per noi la seguita, Tiziana Raffaelli. Il Trentino, nella pericolosità fiscale, ha il posto più basso, quindi è quella che forse è fra i più virtuosi, perché sia Bolzano che Trento, noi studiamo le realtà provinciali, hanno un livello di evasione inferiore alla media nazionale. Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, racconta la geografia dell'evasione fiscale in Italia. Una mappa del cosiddetto tax gap, il divario tra quanto complessivamente dovuto e quanto effettivamente versato. Una cifra che in Italia vale più di 90 miliardi di euro all'anno. Su una scala di pericolosità da 0 a 5 è Bolzano, la città che più si avvicina allo 0, la meno fiscalmente pericolosa, quella in cui la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato è più bassa. Segue Trento e poi Sondrio, Genova, Udine. Eppure anche in Trentino il 30% delle dichiarazioni di società di capitali e di enti risultano incongrue rispetto agli studi di settore. Proprio a questo fine noi abbiamo mandato qualcosa come 160.000 lettere la scorsa settimana che dicono prima che si arrivi a una qualsiasi tipo di contestazione e prima anche che si faccia la dichiarazione, questa è la strategia, quali sono le anomalie rilevate. Dopodiché il contribuente può decidere se adeguarsi a quelle anomalie, se a dire a noi perché ha quell'anomalia, che magari è di tutto legittima, oppure ignorarlo. Molti, abbiamo visto l'anno scorso, circa due terzi hanno corretto l'anomalia. Bene, stiamo concludendo il racconto di questa terza giornata. Vi saluto raccontandovi quello che ha detto Giuliano Amato, intervenuto su un dibattito sul giornalismo economico, ha detto c'è troppo conformismo. Ce lo racconta in realtà Gabriele Carletti. L'informazione economica soffre di conformismo, a dirlo un giornalista del Financial Times, John Lloyd, in un dibattito con l'ex ministro e attuale giudice costituzionale Giuliano Amato. Lo abbiamo sperimentato, dice Lloyd, prima della crisi del 2008. Quasi tutte le fonti, banche, imprese, hedge funds, dicevano ai giornalisti che non c'erano problemi strutturali, che non c'era una buona finanziaria. Poi invece arrivò una durissima recessione, una lezione che il giornalismo economico non ha ancora preso, fa intendere Amato, che sottolinea come del tema dirompente delle disuguaglianze e dei suoi effetti sulla crescita si parli poco. Una cosa che ho trovato stupefacente in questi anni è che mentre gonfiava il più colossale problema sorto nelle società sviluppate dai tempi dell'inizio della loro storia, che era la crescita di disuguaglianze mai viste, che poi è ciò che ci esplode davanti con Trump là e Sanders là, tutte e due in realtà, questo non era il centro dell'attenzione. A questo un altro ospite del festival, l'ex ministro Vincenzo Visco, aggiunge un'altra storia che sta scivolando via con troppa facilità, quella dei Panama Paper, dei paradisi fiscali dove sarebbero costuditi centinaia di miliardi di euro provenienti solo dall'Italia, cento volte più, per fare un esempio, della spesa annua dell'accoglienza dei migranti nel nostro paese. Promesse, qualche promessa, non so se dopo la riusciranno a mantenere, altro non so dire. Che opportunità è secondo lei per la città questo festival? Beh, arriva gente, arrivano turisti, arrivano parolai e vediamo se lasciano qualcosa.